non so se sia realmente accaduto se si tratta di una storia inventata o semplicemente di un sogno ma a me è piaciuto e voglio raccontartelo una donna molto saggia si svegliò una mattina e guardandosi allo specchio scoprì di avere soltanto tre capelli e allora pensò mi farò una bella triccia il giorno dopo si alzò nuovamente si guardò allo specchio e scoprì che i capelli erano due cosa fare bene mi farò la fila in mezzo il giorno dopo stesso rituale si guardò allo specchio e questa volta il capello era uno solo cosa fare farò qualcosa di bello per questa giornata il giorno successivo ancora si svegliò si guardò allo specchio e scoprì che non aveva più capelli cosa fare bene da questo giorno non ho più il problema di pettinarmi cosa voglio dirti caro amico che è importante l'attitudine con cui affrontiamo i nostri problemi se oggi sta piovendo sulla tua vita tu non smettere di ballare sotto la pioggia e se la tempesta dovesse imperversare tu non lasciarti sgomentare perché nel modo in cui affrontiamo i problemi sarà più facile poterli superare dio ti benedica grazie a tutti grazie grazie